Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Il popolare programma televisivo Reazione a catena con Pino Insegno si avvia alla conclusione della stagione, con il conduttore che passerà il testimone a Marco Liorni per il ritorno dell'eredità. Tuttavia, per gli appassionati del quiz show c'è una buona notizia. Il programma tornerà la prossima estate con Insegno al timone, ma con un piccolo cambiamento. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, Reazione a catena farà il suo ritorno estivo con Pino Insegno come conduttore. Ma con una condizione. Il programma tornerà alle tempistiche originali, andando in onda solo nei mesi estivi. Questa scelta potrebbe essere motivata dalla volontà di mantenere un format che funziona nel palinsesto televisivo, lasciando più spazio all'eredità con Liorni. Nel frattempo, Pino Insegno non resterà con le mani in mano, poiché all'inizio del 2025 tornerà in prima serata con il Varietà Il Buono, Il Brutto e Il Cattivo. Il programma vedrà una sfida tra tre amici protagonisti per decretare il film più bello, con Insegno come uno dei concorrenti. Ospiti e una giuria saranno presenti per valutare i film in gara. Insegno avrà quindi diversi progetti in cantiere, mentre aspetta il ritorno di Reazione a catena la prossima estate. Gli appassionati del quiz show possono quindi prepararsi per una nuova edizione estiva, sperando che il programma possa ripartire.